Benvenuto a Corrado Carosi della pastigeria Giubea, primo anno per voi, cosa ci avete portato e come sta andando? Buongiorno a tutti, abbiamo portato la novità con la farina di sega, le miele di castagno e frutti di bosco candito da noi, 36 ore di lievitazione naturalmente, è un evento molto importante che ci farà conoscere anche in tutta Italia e abbiamo lavorato abbastanza e oggi è una bella giornata, è domenica quindi aspettiamo parecchie persone che comprano i nostri prodotti. Da dove ha preso la passione per la pasticceria, per il panettone, questo interesse? La mia passione nasce da piccolino che mi piaceva cucinare, i miei genitori fanno tutt'altro, non fanno i pasticceri e piano piano ho iniziato a lavorare in piccole pasticcerie, poi corsi e poi altre pasticcerie un po' più grosse, un po' più conosciute e dieci anni fa, aprile facciamo dieci anni, la Giubea, ho aperto a 24 anni, ora sono a 34, quindi ormai il percorso è avviato. Io la ringrazio, le faccio gli auguri di buone feste e mi auguro di rivederla anche l'anno prossimo. Grazie anche a voi e buone feste.